La memoria ha meccanismi imperscrutabili. Una volta è stato fatto un esperimento davvero strabiliante. Buonasera, questo è il video che vi dicevo ieri sera nella mia live riguardo all'effetto Mandela. C'era qualcuno che sostiene che l'effetto Mandela sia il frutto di un'interferenza tra le memorie delle nostre vite attraverso i multiuniversi, quindi per sostenere le teorie del multiuniverso. Quindi dicono che questo esperimento che hanno fatto, che una signora, una scienziata, diceva che lei si ricordava Nelson Mandela morto in galera e invece le avevano fatto notare che Nelson Mandela era poi sopravvissuto ed era diventato presidente del Sudafrica. Non è che io non voglio appoggiare le vostre teorie dei multiuniversi, ma vi voglio anche dimostrare con questo video, questo video è uno sketch tratto da un film bellissimo del regista Harry Follman, chiamato Un waltzer con Bashir. E questo sketch è proprio intitolato Gli scherzi della mente. Ma guardate che non me lo invento io. Ci sono dei sistemi per chi è capace di instillare dei falsi ricordi nelle persone, a volte quando si interrogano dei testi, la prima volta danno una versione, la seconda volta ne danno un'altra. Vi ricorda qualcosa? Vi ricordate quel caso famoso dove disse che era stato aggredito da una persona, poi il giorno dopo sotto, diciamo, interrogatorio di una persona speciale, disse tutta un'altra cosa che era stato il vicino di casa. Perché ci sono delle capacità di interrogatorio, non violente, ma persuasive, di instillare dei ricordi farlocchi falsi nella mente delle persone. Guardate che la comunicazione, i messaggi subliminari, anche se sono stati vietati a livello commerciale, ma a livello militare, vengono usati. Inutile che me la menate, lo sapete che ho ragione. Andatevi a cercare il progetto MKUltra o il caso Dorigo. Poi mi raccomando, venite qua a commentare cose senza senso e fuori tema. Mandate i vostri ancelli o le vostre ancelle a discreditare questa mia ricerca, questo mio diario. Questa è la mia ricerca della verità e il mio diario. E io sono proprio convinta di quello che penso. Che possono usare la comunicazione in modo improprio per farci, diciamo, credere a qualsiasi cosa. Ma qui, questo video, ascoltatelo tutti, andatelo a cercare nel mio profilo. parla dei falsi ricordi. Ci sono degli esperimenti di scienziati veri, veri, russi, israeliani, americani. la nostra mente non sappiamo niente. Sappiamo una milionesima parte di quello che c'è nel nostro cervello. I meccanismi del nostro cervello non ne conosciamo se una piccolissima parte. e la scienza è in continua evoluzione. Questa è la meraviglia della scienza. Per quello non dobbiamo pensare che quello che pensiamo oggi non si possa rivedere e correggere. però per me l'effetto Mandela non è dato da multi-universi. Multiversi. Ma è dato da scherzi della mente. Buona giornata a tutti. Buona giornata.